Quando ti ho preso in mezzo al campo mi hai detto ma non ho neanche sentito che ero un man of the match, bella soddisfazione. Sì, sì ovvio, sinceramente non l'avevo neanche sentito e si vede che ero concentrato nel gioco, ma sì ovviamente è sempre una soddisfazione prendere questa nomina. Ti ho anche detto che ti ho visto più che bene da un paio di settimane e che la voglia di giocare si vedeva tutta. Sì, sì ovvio, sono stato fuori quasi otto mesi e ovviamente adesso poco a poco inizio a prendere un po' il ritmo di gioco quindi sono molto contento. Che partita è stata? Perché a un certo punto è stata una partita veramente tosta. Sì, molto tosta, è stata durissima anche per la pioggia ovviamente non aiuta, è stata una battaglia di tutti i 15 penso che hanno lasciato tutto in campo, il cuore, il fisico, tutto quanto e si è visto il risultato. Era importante continuare a vincere perché adesso insomma con due vittorie avete perso le prime tre però ci sono due vittorie, vi rialzano in classifica, ci sono gli Scarlett. Sì, sì, sì ovviamente due vittorie è quello che avevamo bisogno e anche perché ci siamo trovati di nuovo con tutti i nazionali in questa partita e ci siamo trovati bene quindi è un punto molto importante. Hai un record da migliorare con noi, qui 17 placaggi che hai fatto quindi a buon rendere. Speriamo, non sarà facile però, andremo avanti.